Passiamo alle rugby, prime settimane di lavoro a Molettolo per la franchigia delle Zebre. Per noi ha delineato gli obiettivi e le potenzialità della squadra uno dei due tecnici, l'ex mediano azzurro Alessandro Troncon. La franchigia federale delle Zebre è nata da poco ma è già pronta per stupire. La squadra è un mix di giovani talenti ed esperti di tutto valore. Venditti, Bortolami, Perugini, Orchera, Pratichetti, Festucia. La presenta uno dei due tecnici, Alessandro Troncon, ex mediano con oltre 100 presenze in nazionale e 7 campionati vinti contro Eviso. Una squadra di rugby di alto livello, una squadra omogenea che ha bisogno dei giocatori con più esperienza ed ha bisogno anche dell'entusiasmo e della sfrontatezza dei giocatori più giovani. Le Zebre sono già al lavoro, attività coordinata da Troncon, dall'altro tecnico Vincenzo Troiano e dal team manager Fabio Ongaro, ex tallonatore azzurro. Che obiettivi può darsi la franchigia? Un gruppo che possa essere competitivo a qualsiasi livello, quindi in Celtic League come in Enneken Cup. Un gruppo nuovo che però è ricco di giocatori che hanno voglia di mettersi in evidenza, di dimostrare il loro valore e di crescere. Uno sguardo anche allo stato di salute del rugby parmense. Una zona con molte realtà, tante, forse anche troppe, soprattutto in questo momento di difficoltà, però c'è tanta passione, c'è tanto entusiasmo e questo è sicuramente molto importante.